Le giornate di primavera del FAI, Fondo Ambiente Italiano, tornano in grande stile sabato 25 e domenica 26 marzo, con la Regione Campania più che mai protagonista. Sono oltre 40 i luoghi aperti ai visitatori che potranno gustarsi delle vere perle spesso inaccessibili e poco note. Ercolano, Capri, Sorrento, ma anche le tappe di Avellino e Benevento apriranno le proprie porte con i siti scelti dal FAI, con l'ormai tradizionale coinvolgimento dei volontari e soprattutto degli studenti campani che vestiranno i panni del Cicerone FAI. La presentazione delle giornate di primavera si è svolta a Palazzo Salerno di Napoli, sede del Comando Forze Operative Sud dell'Esercito. Il palazzo svelerà al pubblico una vera e propria chicca, il suo giardino storico. Sentiamo il padrone di casa, il generale Carmine Sepe, e il presidente regionale del Fondo Ambiente Italiano, Michele Pontecorvo Ricciardi. Grazie al FAI manteniamo questo patrimonio storico, culturale, dove viviamo con le nostre unità, con il nostro personale, ma soprattutto in piena sinergia con l'ambiente e con la comunità. Giornate FAI di primavera, giunte alla 31esima edizione, quest'anno oltre 40 i luoghi aperti in Campania da scoprire sul sito giornatefai.it, tanti luoghi delle istituzioni, della scienza, ma anche luoghi di privati. Confido nei napoletani in modo particolare affinché possano visitare luoghi vicini alla propria quotidianità. Le parole dell'assessore al turismo della Campania, Felice Casucci. C'è tanto da scoprire anche a due passi da casa e io infatti confido questo senso di prossimità riguardo innanzitutto i napoletani che conoscano Napoli.